Ciao a tutti, oggi vorrei spiegare come funziona la centrale elettrica. Ma questa centrale elettrica per cosa l'abbiamo fatta? Per spiegare come funziona. E noi abbiamo fatto un modellino con poche cose. Vediamolo tutto insieme. Ma è funzionante? Sì. Ok, ma questa mi sembra una mappa concettuale, a cosa serve? EFER, per preparare l'esame di terza media. Su che argomento? Su le centrali. Su le centrali elettriche. Allora, vediamo tutti i pezzi di questa centrale. Allora, c'è la turbina. La turbina. L'igienerazione elettrica che gira. Ah, che gira. Poi c'è la funzione di navio. Ok. E' l'impianto. Cos'è? Un tubetto alla fonte di energia? Ma è il tubetto alla fonte di energia? O cos'è? Eh, la fonte di energia è il soffio. Ah, allora è l'aria. Ma questa turbina gira solo per il soffio o anche per altri monopoli? Potrebbe girare anche per acqua o fluidi. Allora, il soffio, l'aria batte sulla turbina, il generatore fa girare e si gira percorso la turbina, poi c'è un piccolo impianto elettrico che porta l'energia elettrica all'utilizzatore. Vediamo come funziona e se funziona. Prova. Ah, funziona allora, dai. Vediamo di nuovo. Fantastica. Quindi qua in miniatura abbiamo creato una centrale elettrica funzionante. E poi non smette di fare luce perché non c'è più. Ok. Quindi diciamo che il nostro sperimentino ha funzionato bene. Oggi è maggio 2013. Possiamo dire a chi ci vede che ci provi anche lui perché queste cose possono anche funzionare. Tanti saluti a tutti. Da Luca. E da? E da Professor Fulio. Ok. Ciao. 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 Grazie a tutti.